Voi me l'avete chiesto in molti il commento alle gare di Andrea Mammoli in Francia E poi l'Ele Ricotti invece negli Stati Uniti al Legion Sports Fest sono arrivati entrambi secondi nella categoria Classic Physique Queste erano le prime gare di qualifica per l'anno prossimo Chiaramente l'Ele Ricotti è già qualificato per l'Olimpia di quest'anno per questo era negli Stati Uniti Comunque per quanto riguarda il Legion Sports Fest ha vinto Michael Daboul Queste sono le foto dei Comparison In questa foto Michael è il primo da sinistra Chiaramente l'Ele Ricotti è il secondo da sinistra Non mi piace particolarmente Michael L'ho visto anche all'Aron Classic quest'anno Non è che io conosca benissimo il bodybuilder del Classic Però lui l'ho visto alcune volte È un fisico che non è particolarmente classico Però capisco perché abbia vinto fondamentalmente per la massa e la definizione Anche se come detto non è particolarmente classico come fisico Mi ricorda più un fisico da open Ha dei deltoidi molto sviluppati Non è che sia tutto questo X-Frame Cioè la forma a X del corpo Però come detto capisco perché abbia vinto Più che altro per la massa e la definizione Ricotti è arrivato secondo Secondo me è migliorato molto rispetto all'anno scorso Anche rispetto all'Arnold di quest'anno Ha messo un po' più di massa nei quadricipiti E anche un po' più di densità della schiena Però secondo me ha ancora un po' bisogno di massa in generale Credo che sia ancora sotto il limite del peso per il Classic Physic Chiaramente sapete benissimo che c'è un limite di peso relativo all'altezza nel Classic Però a poco a poco sta riempiendo il fisico Con un po' di massa nei punti giusti Chiaramente mantenendo anche un'ottima definizione Quindi non credo ci sia da gridare al furto In questo caso penso che non l'abbia fatto nessuno Credo che sia un piazzamento onesto Il suo secondo posto Per tutti questi motivi qua Forse era anche più definito di Michael Daboul Però il bodybuilding è comunque una disciplina Dove la massa conta Anche nel Classic Physic Quindi penso che sia un risultato Tutto sommato giusto almeno Io la vedo così Però veri compliments comunque All'Eler Ricotti che ha portato Dei buoni miglioramenti E un po' per volta sta costruendo Un fisico adatto al Classic Questo vedete Michael Daboul Non mi piace Deltori troppo sviluppati rispetto ai pettorali In generale non mi fa impazzire La schiena è un po' incasinata Lo vedete qui La parte bassa della schiena non mi piace Non ha dei dorsali eccezionali Non è un bodybuilder Che vedendolo mi fa pensare al Classic Non so a voi Però A me fa questo effetto Parliamo invece del secondo posto in Francia Di Andrea Mammoli Questo secondo me è decisamente discutibile Perché si è piazzato secondo Dietro a un bodybuilder Che si chiama Miguel Malimo E in questo caso secondo me No vabbè Non parliamo di furti Perché ormai si parla troppo Di furti Comunque Un ottimo fisico Di Andrea Mammoli Ho visto che ne hanno parlato molto anche In varie pagine di Instagram Che trattano di bodybuilding Lui secondo me è un fisico Che ti fa pensare al Classic Anche per Come posa Come sfrutta Il vacuum La vita stretta Come anche orienta il corpo Cioè spostando tipo il bacino Tutto da un lato E il tronco Dall'altro Certi tipi di pose Tipo questa La crucifix pose In generale Ha un bel fisico Ha portato un'ottima definizione Un ottimo posing Che è migliorato Rispetto all'ultima gara In cui l'avevamo visto Mi ricordo che era un po' tentennante Non ricordo che la gara fosse Ma mi ricordo che In alcuni tratti Era un po' Tentennante Invece Qui si è comportato Davvero bene Secondo me Non so quanti anni abbia Quindi scrivete nei commenti Credo che sia molto giovane Quindi sicuramente Avrà tempo per Rifarsi Poi da quel che ho capito Dovrebbe gareggiare Nuovamente A breve Non so dove Però ho visto che Ne ha parlato lui In una storia Quindi Ne parleremo A breve Questo invece è il Vincitore Come detto Non ho voglia di parlare di furto Perché Come ho già detto Tante altre volte Si fa troppo presto A parlare di furti Ormai Cioè È sempre un furto In ogni gara Quando c'è un italiano Cioè Da parte degli italiani Che sono tifosi Chiaramente Credo che sia Un buon fisico A me personalmente Piace un po' di più Mammoli Però Posso capire Perché Abbia vinto Forse la schiena Era leggermente Superiore Anche se Era un po' Asimmetrica Questo è un Call out Magari È piaciuto di più Ai giudici Per qualche motivo Che Non sappiamo Mammoli È leggermente Più grosso Secondo me Posa anche Un filino meglio La definizione Non so Chi fosse Più definito Dell'altro Mi sembra Molto vicini Qui vedete un po' La simmetria Nella schiena Di Miguel Soprattutto Nel dorsale sinistro È un po' più piccolo Del destro Però Ha più densità A livello di trapezio Forse qualche Dettaglio in più Che ha convinto I giudici Non saprei Cioè io sto vedendo Questo call out E così Dico quello che Che penso Che mi sembra Di vedere Però Come ho detto Non mi va Di parlare Costantemente Di furti Perché sembra Il leitmotif Delle ultime Settimane Per Certa gente Queste sono Decisioni Secondo me Molto molto Officine Sono dei casi In cui Può vincere uno O può vincere L'altro Perché sono Bodybuilder Molto vicini Per un motivo O per un altro Secondo i giudici Magari anche Secondo noi Però Il bodybuilding È sia oggettivo Che soggettivo A volte A volte vince qualcuno A volte vince Qualcun altro Non si può Essere sempre Contenti Dei risultati Queste foto Credo che siano Leggermente Filtrate Secondo me Gli manca un po' Di densità A mambo Di apertura Dei dorsali Che probabilmente Aveva invece Miguel Quindi magari Hanno valutato Anche questo aspetto Di densità Della schiena Però sicuramente C'è un ottimo potenziale Farà sicuramente bene Gli servono Un po' più Di dorsali Probabilmente Buona Grazie a tutti